Barack Obama ha esortato il mondo a unirsi alla lotta contro il gruppo islamista ISIL. All'Assemblea generale dell'ONU il presidente statunitense ha affermato che occorre fermare la propaganda che corrompe giovani menti con un'ideologia violenta. Obama ha invitato i giovani musulmani a rispettare la tradizione dell'Islam, ossia istruzione e rispetto della vita, e ha aggiunto col male non si può negoziare. L'unico linguaggio che capiscono questi assassini è il linguaggio della forza, quindi gli Stati Uniti lavoreranno a una grande coalizione per smantellare questa rete di morte.